Lo dà con il tempo, senti che non passa il tempo. Siamo nel quattordicesimo incontro. Vi ricordo il criterio con cui stiamo analizzando un po' la creazione, i giorni della creazione e il desiderio di rinascere. Perché siccome storicamente, come è stato detto più volte, il popolo di Israele si trovava in una profondissima prostrazione ed era veramente distrutto, il Signore suscita un desiderio di rinascere. E con questa condizione storica loro ripensano i perché e come Dio, non scientificamente, perché non avevano una mentalità scientifica, aveva creato il mondo. Allora questa ispirazione per scrivere e descrivere i perché il Signore abbia creato il mondo era un po' il paradigma, cioè l'esempio, il prototipo, il modello del rinascere, nascere di nuovo. Siamo al quinto giorno e vi ricordo che il Signore ha creato tutte le specie degli animali e benedice la vita e insieme alla benedizione offre la fecondità. Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplicano sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. E dicevamo l'altra volta che la gratitudine è uno stile di vita necessario, perché se una persona non ha gratitudine verso la vita, non ha capito che la vita ha un suo e un dono. Ecco, se una persona non ha capito che la vita è un dono, ma vive di tristezza, ingratitudine, lamenti e mormorazione, che poi la mormorazione, come si sa, è la preghiera del demonio, si chiama mormorazione, ma c'è la lemantela, c'è la tristezza, l'ingratitudine, quando ci sono questi atteggiamenti di fondo che una persona è insoddisfatta e non sa apprezzare quello che ha, perché la vita ha una sua consistenza. Cioè noi ci ritroviamo in un mondo dove c'è sempre qualcosa di buono. La vita stessa è in sé stesso buona, è benedetta e buona. Quindi se una persona non scopre la bontà della vita, ma si lamenta sempre perché vede le cose negative che ci sono pure, o che mancano, che ci sono, che mancano pure, ed è vero che mancano, ma se una persona non sa valorizzare il bene che già c'è, in effetti non parte bene. Perché se una persona parte dalla rabbia, dalla reazione, se una persona è già nei guai e non si appoggia a qualche cosa di solido, che è prima di lui, perché Dio ha creato, prima di noi ha creato la vita e la benedetta. Quindi valorizzare la vita è importante. Un buon esercizio è quello che tutti i maestri dello spirito, anche l'autore lo dice, è quello di imparare, proprio imparare, anche da adulti, a ringraziare la sera per le cose buone che noi abbiamo avuto, vissuto. Le cose negative, l'esame di coscienza si deve fare pure. Però è meglio fare anche l'elenco delle cose buone. Quando una persona impara, poco a poco, ad apprezzare anche quello che è stato dato. Quanta gente, per esempio, trova il piatto a tavola, ma non ringrazia mai. Quanta gente ha un tetto e non ringrazia mai. Quanta gente ha la salute e non ringrazia mai. Quanta gente riceve ogni giorno, ma non ringrazia mai. Ma manco capisce che ha ricevuto. Quindi imparare a scrivere anche, se è necessario, quello che abbiamo ricevuto, le cose buone. Gli altri, anche gli altri, noi vediamo i lati negativi degli altri, o anche nostri. Però sforzarsi a capire quali sono anche i lati positivi delle persone, vedere il positivo, imparare ad apprezzare il positivo che c'è nella vita. Non è mai scontato questo, perché c'è gente anche che prega, ma è negativo. Non sa apprezzare le cose positive. Certo, poi ci voleva il coronavirus per apprezzare la libertà di farsi una passeggiata, per esempio. Però c'è da dire questo, che il coronavirus ci ha indicato anche la via della solitudine. Di saper apprezzare anche la solitudine, perché c'è gente che non sa stare sola. C'è gente che non era abituata a stare in famiglia. C'è gente che non era abituata a stare con i figli. E con la scusa, anche con l'obbligo del lavoro, tante volte si trascurano dei valori. Quindi anche il lockdown ha sottolineato alcune cose, e c'è da ringraziare pure per queste. Tante persone, per esempio, questa è una cosa che magari alla televisione non si dice, non si può dire, però tante persone, a causa di questa cattiva sofferenza e morte, hanno trovato il paradiso. Perché c'è da dire questo pure? Tanta gente che è morta o che sta morendo, il Signore gli dà quello che la vita non gli ha saputo dare. Quanta gente è nata povera, muore povera e sola con questo coronavirus. Ma solo Dio può dare a loro una vita eterna, perché ci ha creati per non morire mai. Quindi i lati positivi comunque ci sono oggettivamente. Noi dobbiamo solo accorgercene che ci sono delle cose positive. Apprezzare il positivo è già, si può dire, la base della preghiera. Perché se una persona sa apprezzare anche il positivo, anche di se stesso. E infatti in questo incontro soprattutto si parla anche di questo aspetto. Alimentare la vita è un atteggiamento favorevole allo Spirito Santo. Perché lo Spirito è datore di vita. Quindi se una persona distrugge la vita va contro Dio, anche se è religioso. Se una persona alimenta la vita e promuove la vita, apprezza la vita, già è nell'ambito dello Spirito. Quindi ci sono delle persone ate che magari per ragioni di scandali non si avvicinano alla Chiesa, alla fede, perché vedono il mondo religioso in maniera negativa, preconcetta, quello che è. Però se promuovono la vita, valorizzano la vita, le persone, se apprezzano la vita, già sono in una condizione che favorisce lo Spirito Santo. Quindi è bello alimentare la vita, è brutto distruggere la vita, estinguerla, deprezzarla. Ed è brutto quando una vita finisce. Dicevo è brutto morire. Perché? Perché siamo nati per la vita. Nonostante noi sappiamo che la morte Dio l'ha fatta diventare il corridoio o la porta che porta alla vita eterna, quindi alla gioia eterna, questo è l'opera di Dio, la gioia eterna, ma la morte rimane un fatto negativo. La morte rimane sempre un fatto doloroso, negativo. E quindi noi dobbiamo apprezzare il Signore che dalla morte ha ricavato la vita eterna e una vita nuova. E ci propone nei sacramenti la vita eterna e la vita nuova. Ma dobbiamo riconoscere che in questo mondo il Signore di questo mondo e la Signora di questo mondo sono il demonio, il principe di questo mondo e la regina di questo mondo è la morte. E sono nemici di Dio. Perché Dio è nemico della morte. Quindi il Signore risorto è venuto a vincere la morte. Siamo chiamati a vivere. Siamo chiamati a vivere. Ma siamo chiamati a promuovere la vita. Infatti, voi vedete per esempio, qualsiasi persona lavori, qualsiasi lavoro, e sempre può favorire la vita. Anche una persona che lavora in un bar e dà un caffè con un sorriso promuove la vita. Maledire, infatti, significa distruggere la vita. Dio invece benedice, cioè favorisce la vita. Per questo la maledizione è opera del maligno e le persone che maledicono purtroppo si fanno strumenti del male. Quindi la volontà di Dio è la vita, vivere. Anche quando una persona sta morendo, l'Eucaristia che diamo come viatico, si chiama proprio viatico perché ci porta una via che ci porta all'altra vita. Infatti Gesù risorto, che cosa dice? Ma anche, sì, in pratica Gesù risorto, anche se in San Giovanni 6 è riportato come se Gesù ancora dovesse morire, però sono le parole del risorto poi fondamentalmente. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita, cioè la vita vera. E questa è la morte e non vedrà la morte. Perché? Perché di fatto una persona che già vive la vita eterna, quando il suo corpo resta in questo mondo, lui vede già la vita eterna e vive la vita eterna. Quindi il Signore è amante della vita, non ha creato la morte. Tanta gente quando si muore in colpa a Dio. Però, onestamente è giusto che io vi prendo Sapienza, Sapienza, capitolo 2, all'ultimo versetto del capitolo 2, c'è scritto Per invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Perché noi purtroppo, come uomini, apparteniamo a questo mondo. Poi Dio ci salva. E al capitolo 11, poi, sempre di Sapienza, quando si parla della misericordia di Dio, Siamo ancora prima di Gesù Cristo, siamo 50 anni circa prima di Gesù Cristo col Libro della Sapienza. Quindi già molto vicini a Gesù. Al versetto 26, Ecco, capitolo 11, Versetto 26, Tuo Signore sei indulgente con tutte le cose, perché sono tutte tue. Signore che ami la vita, amante della vita. E questo è importante, perché noi tante volte abbiamo una concezione di Dio negativa, come se fosse un Dio punitore. Invece è tutto il contrario. Addirittura Gesù Cristo, in Giovanni 3, non ve lo piglio questo brano, diceva io non sono venuto per condannare nessuno. Io sono venuto per dare la vita, dalla inambondanza, in tutto il Vangelo di San Giovanni. E la vita eterna poi, dice San Paolo, 1 Tessalonicesi, questi brani non ci sono nel libro, onestamente. Queste ve li do io come corredo, perché tante volte, giustamente, un libro non può fare tutto. In 1 Tessalonicesi 4, al versetto 16, versetto 16 fino al 18, guardate come parla il Signore della fine dell'umanità. Poiché il Signore stesso ha un ordine alla voce dell'Arcangelo, al suono della tromba, scenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi che viviamo, e loro erano convinti che sarebbero state ancora in vita quando Gesù fosse tornato. E vabbè, questa è una lettura che facevano loro perché pensavano che i tempi fossero brevi. Che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto. E così per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Al di là della concezione storica un po' limitata che avevano allora, però la cosa bella è che San Paolo dice noi quando rivedremo il Signore, noi staremo sempre con Lui. E questa è la vera vita. E per questo, in questa maniera, il Signore vince il male e la morte. Quindi vivere è il primo bene che abbiamo. Tante persone, per esempio, non hanno mai ringraziato Dio per essere stati creati. Che poi era una vecchia preghiera che ci insegnavano da bambini. Ti ringrazio Dio per avermi creato e fatto cristiano. Quindi ringraziare per la vita, ancora prima che per la grazia, e volontà di Dio e ci mette in un rapporto positivo con Dio. San Giovanni Damasceno, un padre della Chiesa importante, dice tutto ciò che Dio ha fatto è molto buono. Tutto ciò che persiste, come è stato fatto da Dio, è stato creato ed è molto buono. Ciò che va contro la natura diventa cattivo. In effetti tutto ciò che va contro la natura diventa cattivo. Tutto ciò che è contro natura. Perché purtroppo tanta gente va contro la natura. Cioè la natura è stata fatta bene, benedetta da Dio, e tu vai contro la natura. Quando una creatura volontariamente si ribella e disobbedisce al suo creatore, stabilisce purtroppo il male dentro di sé. Appena una persona va contro la natura umana. E di fatto è questo. Allora è bene dire, anche se la tua vita è limitata, anche se è povera, anche se è vessata, anche se è umile, anche se è debole, anche se è fragile, anche se è peccatrice, ma questa è l'unica vita che hai ed è benedetta da Dio. Dici ma come sono un peccatore? Sì, perché Gesù è morto per i peccatori. Perché anche il peccatore è nato per essere santo. Perché la nostra chiamata, sulla base buona della natura, è per la santità. Quindi chi rifiuta la sua vita, in pratica, desidera un'altra vita. Mettete che tanta gente rifiuta la propria vita. Voi pensate, per esempio, che tanti problemi di anoressia, tanti problemi di tossicodipendenza, sono rifiuto della propria vita. Una persona che rifiuta la propria vita. Gli fa schifo, scusate la frase, la propria vita. Tanta gente si distruggerebbe, desidera essere un'altra persona. Allora, chi rifiuta la propria vita, che è già benedetta da Dio, perché la vita, dicevamo, è già benedetta, nasce benedetta la vita. E quando io rifiuto la mia vita e mi oriento verso una vita ipotetica, io ipotizzo una vita, sogno una vita, che non è la mia. Quindi io rifiuto la mia e ne sogno una, io mi sto creando un idolo. Quindi un falso Dio. Mi sto creando un idolo che purtroppo diventa una cosa pericolosa perché negli idoli agisce il maligno. Nel vero Dio agisce lo spirito. Nell'idolo purtroppo si cade nel braccio del maligno. È molto meglio valorizzare la vita povera e sviluppare quel poco che abbiamo, sapete? Con la mia povera zolla di terra ho prodotto dei fiori. Ed è importante questo fatto. Ma quando una persona non valorizza la propria vita povera e la butta, la distrugge, allora è un problema perché va contro lo Spirito Santo. È molto meglio valorizzare e sviluppare ciò che Dio ha creato, è buono e benedetto. Povero quant'è. Imparare a capire la propria chiamata, questo è l'impegno di ogni giorno. Ogni giorno noi riceviamo un aiuto di Dio per realizzare il piano di Dio. Quello che diciamo nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà, che non è un'imposizione. Ecco, la volontà di Dio, come Gesù Cristo ci ha insegnato, è la prospettiva migliore, la proposta di Dio. È come per dire la proposta di un allenatore bravissimo. Mettete che un campione, cerchi un campione del mondo, cerchi il miglior allenatore del mondo. Voi pensate, per esempio, che nello sport o nella musica qualsiasi persona, qualsiasi artrista cerca sempre un allenatore bravo, che lo valorizzi. Noi non troviamo mai un campione del mondo che non abbia un allenatore. Anzi, certe volte ne hanno più di uno. C'è un preparatore atletico, c'è un manager, c'è un preparatore anche mentale. Perché questo? Perché i consigli di una persona esperta valorizzano la tua persona. È la proposta. Allora, noi abbiamo un allenatore, che è lo Spirito Santo, e abbiamo un manager importante, che è Dio Padre, e ci propone il meglio per noi. È bene, quindi, dice Gesù Cristo, fare la volontà del Padre, perché è la migliore proposta possibile. Gesù non avrebbe mai potuto trovare una proposta di vita migliore di quella che gli dà Dio Padre. Quindi è meglio per noi cercare con desiderio qual è, Signore, la mia chiamata. Qual è la mia vocazione? Devo assecondare la mia chiamata. Perché se io comincio a sognare cose che vedo alla televisione, se io comincio a lasciarmi attirare da cose che mi piacciono, potrebbero essere la mia vanità che mi fa sognare un tipo di vita. Voi pensate, quanta gente si rovina perché vede dei modelli televisivi o di successo, si affascina di quei modelli, lascia la propria vita, che può dargli pace, anche se è modesta, e va a inseguire sogni di gloria che poi lo distruggeranno. Infatti poi si cade in maniera della corruzione, dell'immoralità per raggiungere quegli obiettivi. Poi è una vita senza pace per cui si cade spesso nelle dipendenze. Poi ci sono forme di suicidi terribili perché si è insoddisfatti. Quindi è fondamentale scoprire, accogliere, rinvenire, assecondare qual è la benedizione che Dio mi dà. Cioè, secondo il tipo di vita, la nostra specificità, guardando con gli occhi dell'amore la nostra esistenza, già noi scopriamo delle tracce. In effetti, se noi perdiamo un po' di tempo, con calma, scopriamo nella nostra vita tracce di bene. Cioè, noi non siamo solo peccati. Noi, nella nostra vita, ci sono anche i peccati. Però, se guardiamo bene, ci sono già delle tracce di un'opera che Dio ha già cominciato. Quando siamo nati, il latte che abbiamo ricevuto, le mani che ci hanno pulito, l'amore che abbiamo ricevuto, già sono un'opera di Dio che si è servito dei nostri genitori, per quanto deboli potevano essere. Noi abbiamo già ricevuto all'inizio. Perché se una persona, se un bimbo non riceve, non può andare avanti. Se siamo arrivati a essere adulti, vuol dire che abbiamo ricevuto. E già questo traccia dei segni. Noi abbiamo necessità, tante volte, a me è stato chiesto, in fase di valutazione della vocazione, disegnare, avevo 24 anni in pratica, disegnare le cose che secondo me Dio aveva fatto di bene nella mia vita. E in effetti, a mia sorpresa, che non ci avevo mai pensato, o ci ho impiegato tanti giorni, perché infatti volevo darlo l'indomani. No, mi ha detto, sì, mi ha detto, non è questione di un giorno che tu ti metti un pomeriggio e tracci le cose belle che Dio ha fatto nella tua vita. È il filo, perché giustamente qual è il principio? Secondo già quello che ha fatto, Dio continuerà a operare. Perché Dio non si contraddice. cioè se tu sei nato per volontà di Dio, come ha sodato Cristo è sicuro, se Dio ti ha portato ora, ci sono le tracce di cose buone che ci sono nella tua vita. Cose buone. Però non è una cosa di un giorno. Tu ti devi prendere almeno dieci giorni, quindici giorni, proprio ogni... Infatti correggerai questo foglietto lo correggerai tante volte, lo strapparai e lo farai uno. Ecco, in effetti è vero. nel giro di una decina di giorni si segnano, imparano. Ogni giorno che tu ci studi, ma devi avere un po' di tempo però, perché tante volte si corre e questo è un guaio della vita di oggi. Che mentre una volta che non ci si muoveva facilmente si era un po' più sedentare, adesso con le macchine o con internet si è sempre impegnati e non c'è la capacità, la possibilità, l'abitudine di concentrarsi. ma mi ricordo che dopo tanti giorni, tanti giorni avevo scoperto tante cose buone che già c'erano e allora giustamente un padre spirituale ti dice allora su questa base buona che tu hai visto che è buona, su questa base Dio continuerà. Perché? Perché Dio non si contraddice, non è che Dio. Se tu sei un'opera di Dio non puoi pensare che Dio fino a 24 anni in un quarto di secolo non abbia operato. Guardate, è una logica molto bella, molto stringente che fra l'altro viene espressa anche in questo libro, anche se qui ne accenna solo, però è bello entrare in quest'ottica. Dio opera sempre, lo spirito non si ferma mai. Allora, se tu sei arrivato a quest'ora, Dio ha fatto delle cose buone, tu hai fatto dei peccati, va bene, certo, i peccati è più facile scoprirle, ma scopri anche le tracce dell'opera di Dio. In base a queste tracce di bene che tu hai vissuto già si scopre quello che continuerà a fare nel futuro. Infatti anche nella vita di San Francesco, come in tutte le vite, nella vita di San Francesco quando si è convertito alcune cose il Signore gliele ha confermate. Non è che ha cambiato tutto, ha cambiato direzione, però alcune cose carismatiche che lui aveva da sempre, la generosità, il fatto di cercare gli altri, il fatto di essere disinteressato, il fatto di amare la gioia, questo ce l'aveva pure prima San Francesco. Quindi le tracce, perdere tempo, tra virgolette, per cercare le tracce di quello che Dio ha già fatto, vedete che è una delle cose buone per rinascere, perché se uno non rintraccia le cose buone che ha fatto, su che basi vuole ricominciare, sul fango, non si costruisce sul fango, la roccia nostra qual è? Quello che Dio abbiamo riconosciuto che ha già fatto. Quindi obbedire alle cose che già il Signore ha fatto e chiedere al Signore di portare a compimento l'opera che ha iniziato in noi, che sta in molto importante. Quindi abbiamo già detto per esempio che un buon suonatore deve riconoscere che lo spartito che ha l'autore in effetti è bellissimo. Quando c'è un canto bello, una musica bella, qualche cosa di bello, è un dono che l'autore ci fa. Perché è una cosa meravigliosa che c'è una musica bella. Allora la prima cosa di un suonatore è apprezzare lo spartito e riconoscere che lo spartito è un dono che l'autore ci sta facendo. Giustamente. Quello l'ha scritto. Noi lo riceviamo e dobbiamo accettare le scelte che lui ha fatto. Giusto? La chiave, il ritmo, la velocità, la melodia, tutto. Quindi è un po' un'analogia con quello che ha fatto il Signore. La vita è uno spartito. Tu devi viverla, devi interpretarla, però su quale base? Quindi questa ubbidienza del suonatore è importantissimo. perché se il suonatore non accetta come un dono, per esempio, non gli piace la musica, cioè non ne suona bene. In qualche maniera deve apprezzare lo spartito, apprezzare la canzone, il canto, la musica, quello che è. Accettare le caratteristiche che l'autore ha fatto e interpretarle. In questa maniera fa qualche cosa di nuovo, perché poi nella musica c'è questo. Mentre in altre forme di arte è diverso, dipende dalla persona che guarda, per esempio uno che fa un quadro, uno che fa una statua, poi ogni persona che guarda la guarda a modo suo. Mentre nella musica c'è un altro elemento, ogni volta che tu la suoni non la suoni mai come l'hai suonata l'altra volta, perché ogni volta che si suona una cosa è sempre con un umore diverso, con un animo diverso, con una praticità diversa, con un sentimento diverso. E quindi non c'è solo chi l'ascolta, ma c'è anche chi la esegue. Mentre un quadro è lì e cambia a secondo di chi lo guarda, dell'umore o della capacità di chi lo guarda, nella musica c'è l'elemento in più di chi lo interpreta ogni volta. Quindi non è che si mette l'anno spartito e le persone guardano l'anno spartito, o si sentono una musica registrata. La musica dal vivo è ogni volta nuova e non c'è niente da fare. È diversa la musica registrata per quanto può essere registrata bene dalla musica dal vivo. Ecco, c'è una frase bellissima di Chesterton, semplice, quasi ironica, e dice bisogna accettare le cose, anche un artista deve accettare la realtà. Quando si disegna una giraffa, questa la devi disegnare per forza col collo lungo. pure qualsiasi artista, se non la fa col collo lungo non è una giraffa. Si può liberare una tigra dalle sbarre di una gabbia, ma non si può liberare la tigra dalle sue striature, perché se non ci fai le striature non è una tigre. Non si può liberare un cammello dalla sua gobba e se i triangoli sono stati amati, sono stati amati perché hanno tre angoli. Dice, se uno non ama gli angoli, non ama i triangoli. in effetti è un giro di parole per fare capire che tu devi in qualche maniera apprezzare già una realtà che c'è e la devi accettare se la vuoi migliorare. Quindi, anche nel leggere la Bibbia, per esempio, ci sono dei fattori che tu devi conoscere. C'è la stoffa di quel brano, per esempio, la lingua originale, il genere letterario, l'ambiente storico dove è stato scritto, la storia del testo, il contesto vitale in cui è stato scritto. Queste sono, si può dire, la struttura del brano. Poi, tu ci ricavi il contenuto perché se, per esempio, è una forma poetica tu lo devi interpretare secondo la forma poetica. Se è una cosa narrativa tu la devi interpretare secondo le caratteristiche della narrazione. Se, per esempio, una lettera, per esempio, San Paolo scrive lettere per cui non sono trattati. Se uno, per esempio, non capisce questo, non capisce il senso che fa San Paolo perché San Paolo scrive lettere. Quindi non fa un trattato. Un trattato, invece, su San Paolo lo fa un teologo che, dalle lettere di San Paolo, trae un trattato su quell'argomento. Quindi, il catechismo, per esempio, è una valutazione sistematica dei contenuti della Bibbia. e attinge alle lettere di San Paolo. Però, le lettere di San Paolo non sono un trattato perché le lettere sono occasionali. Poi, le lettere non sono meditate. Per chi stui in San Paolo tante volte ci sono cose che tu dici ma perché in quella circostanza uno scrive una lettera è come quando telefona. C'è una cosa che uno telefona, una cosa che uno scrive, una cosa che uno fa un trattato. quindi, se una persona non sa prima, non accetta prima, non capisce prima che cosa ha davanti, come nella vita, non può andare avanti. C'è gente, credete me, che va avanti senza capire il senso. C'è un brano molto noto di Luca 2 che è importante perché giustamente come si chiama l'autore Rosini Rosini giustamente dice avete mai notato che nel giro di qualche versetto per esempio Luca 2 versetto 21 quante volte si dice che Giuseppe e Maria e Gesù bambino sono andati al Tempio per compiere la scrittura o per compiere quello che era prescritto nella legge cioè non si azzardano Giuseppe e Maria a fare di testa loro accettano le prescrizioni che già Dio gli ha dato. Ecco, vi leggo così 2 21 2 21 quando furono compiuti gli otto giorni prescritti dalla legge per la circonsidazione gli fu messo nome Gesù e vanno avanti come era stato chiamato dall'angelo quindi c'è pure l'angelo quando furono compiuti i giorni della purificazione rituale secondo la legge di Mosè quindi loro aspettavano tutte quelle cose prescritte dalla legge per eseguirle puntualmente portarono il bambino Gesù per presentarlo al Tempio come è scritto nella legge del Signore ogni maschio eccetera per offrire in sacrificio una coppia di tortore e due giovani colombi come è prescritto dalla legge del Signore poi alla fine versetto 39 quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore fecero il ritorno in Galilea ora dico Giuseppe e Maria che erano delle persone bloccate delle persone ottuse delle persone frustrate delle persone obbligate no loro ritenevano la legge del Signore come la guida che li portava a compiere l'amore di Dio così Gesù Cristo non valuta suo padre la legge di Dio come un problema infatti in Matteo 5 Matteo 5 17 Matteo 5 17 vediamo qua Matteo 5 17 guardate cosa dice non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti io non sono venuto ad abolire ma a dare il pieno compimento in verità vi dico finché non siano passati il cielo e la terra non passerà un solo iota o neanche un trattino della legge senza che tutto sia compiuto quindi chi trasgredirà uno solo di questi minimi precetti della legge e insegnerà ad altri a fare altrettanto sarà considerato minimo nel regno di Dio ma chi osserverà la legge di Dio e la insegnerà sarà considerato grande quindi la legge di Dio quello che Dio ha creato quello che Dio ha fatto perché Dio ha creato il mondo ha creato la vita la benedetta ha creato pure la legge perché vi ricordate senza la legge il popolo si sbandava perché ha creato la legge per garantire al popolo di non perdersi perché senza la legge erano perduti poi loro li interpretarono molti li interpretarono male per carità ma questa è un'interpretazione sbagliata infatti Gesù è il vero interprete della Bibbia il vero interprete della legge quindi è molto importante i cambiamenti la rinascita della nostra vita deve avvenire rimanendo fedeli alle cose già buone che abbiamo non so se voi forse voi non vi ricordate però nel gattopardo la malizia del potere sapete come è espressa questo non c'è nel libro questo me lo ricordo da sempre da ragazzo cambiare tutto per non cambiare niente cioè quando una persona vuole cambiare tutto in pratica poi non cambia niente perché il vero cambiamento è quando io non distruggo le cose buone che ho se io per esempio per cambiare non tengo conto delle cose che già buone ho su che base cambio infatti tanta gente vuole cambiare senza capire quale cose buone ha cioè se un ragazzo è tossicodipendente faccio un esempio se un ragazzo è tossicodipendente allora mi dice padre io sono una pattumiera io sono uno schifo io gli devo dire guarda se tu pensi di essere uno schifo non te ne uscirai mai tu devi dire io mi sono messo nei guai ma qual è il lato buono tuo perché se tu vuoi uscire da questa situazione devi valorizzare il lato buono che hai i lati buoni che hai perché altrimenti su che basi vuoi rinascere sulla spazzatura si può cosciugare un palazzo no allora togli la spazzatura vedi sotto la spazzatura quali sono i lati buoni per esempio l'intelligenza la volontà e valorizza le cose che hai quindi devi sapere quello che va bene nella tua vita e infatti la parola di questo di questo quinto giorno qual è devo capire qual è secondo la mia specie infatti in quel brano biblico di Genesi 1 la specie non è nel senso scientifico perché non avevano la mentalità scientifica la specie significa lo stile di vita il tuo tipo ecco le tue caratteristiche secondo le proprie caratteristiche devo scoprire quindi le tracce di bene che ci sono già nella mia vita passata e usando spesso anche scriverle benedizione e fecondità sono quindi parenti stretti quindi se io valorizzo il bene che è già benedetto da Dio poi è più facile che io sia fecondo cioè che porti frutto quali cose quindi mi devo chiedere quali cose nella mia vita hanno prodotto in me cose buone non è vero che non c'è niente proprio perché in ogni persona c'è grano e zizzane qual è il grano della mia vita cioè le cose che ho visto che so fare bene per esempio se una persona è generosa è generosa infatti anche il figlio il prodigo che si è rovinato era generoso infatti il suo fratello che pareva buono poi si è dimostrato peggiore di lui perché era tirchio quindi quali sono i miei momenti costruttivi quando è che mi sono sentito in pace in un momento anche in pace quando è che sono stato positivo luminoso quando sono cresciuto quindi se io per esempio mi accorgo per esempio tanta gente quando fa la preparazione alla cresima poi ti dice in quel momento poi magari si scorda in questa preparazione ho scoperto cose belle allora devi costruire devi portarle avanti le cose belle e poi la gente è presa poi dopo la cresima da tutti i problemi della vita ma dopo anni che tu li incontri ti dici scusa ma ti ricordi che tu in quei mesi in cui ti sei preparato hai fatto cose belle ma per chi le ha saste perdere se sono cose buone portale avanti allora la propria specie è la costante delle proprie grazie c'è una continuità nel modo con cui Dio ha promosso il mio bene c'è una coerenza nello sviluppo del bene per ricominciare nel bene devo focalizzare capire come Dio salva la mia vita come già mi ha dimostrato le cose buone per esempio se una persona si commuove di fronte ai poveri io ho visto anche delinquenti a Napoli anche i camorristi che di fronte a un povero per esempio si commuovevano poi magari erano carnefici in altre cose allora quel fatto che si commuove di fronte a un povero se quella persona si vuole convertire è un elemento importante perché vuol dire che ha un cuore compassionevole dice ma poi diventa un omicida purtroppo può essere però se si vuole convertire io devo tener conto che già il Signore ci ha messo nel cuore un po' di sensibilità per cui di fronte a un povero invece di dargli un calcio gli ha dato allora c'erano le lire gli ha dato 50.000 lire dice ma di 50.000 lire erano frutto dello spaccio di droga purtroppo è vero ma il fatto che glieli ha date è un segno che ha non so se sono chiaro però è importante capire di capire qual è il bene nostro perché ognuno di noi ha qualche cosa di buono Dio si avvicina a noi in un modo che già conosciamo anche senza saperlo anche una persona atea Dio gli è vicino e lo ama e gli dà dei regali quando questa persona da atea se si volesse convertire riconoscerebbe come ha fatto Tertulliano che era pagano e che è del secondo secolo che è un grande scrittore cristiano Tertulliano diceva quando ero pagano io già avevo Dio vicino ma non lo conoscevo ancora quando io ho conosciuto Dio ho rintracciato i semi di verità che già il Signore mi aveva dato le luci che già mi aveva dato se io imparassi a guardare bene l'opera che Dio ha già fatto in me io capirò cosa il Signore mi ha fatto mi ha già fatto e cosa mi fa bene se una coppia per esempio riconosce dopo 10 anni 20 anni di matrimonio quali sono le cose che in questi 20 anni gli hanno fatto bene perché ci sono cose che hanno fatto male alla coppia per esempio se si ricordano quando erano fidanzati parlavano molto allora vuol dire che ora devono rimparare a parlare molto tra di loro perché stavano bene se per esempio avevano un'intimità molto affettuosa e ora l'hanno persa evidentemente queste cose buone del passato devono essere riprese perché fanno bene pure ora per questo si dice alle coppie che devono in qualche maniera rimanere fidanzate per tutta la vita perché in genere nel momento dell'innamoramento nel periodo dell'innamoramento ci sono dei segni che sono fruttuosi anche per il resto della vita poi l'innamoramento svanisce ma alcuni segnali dell'innamoramento rimangono per tutta la vita che cosa succede che tante coppie proprio perché si scordano del bene passato di fatto poi si perdono quindi devono capire ognuno di noi deve capire il bene che già ci fa bene e coltivare quel bene a ogni costo il bene fa bene e più si cammina sui solchi del bene e più cresce il bene la vita quindi che è già benedetta dal Signore fin dalla nascita se io l'accetto l'accolgo come un dono anche se è povera ora si arricchisce sempre più di amore e la ripetitività della grazia il fatto che la grazia si rinnova sempre un po' come la pioggia un po' come i cicli della natura portano avanti il bene poi c'è il lavoro contro il male per carità poi sapete il lavoro contro il male si deve fare pure ma ci vuole il lavoro per coltivare il bene ora noi siamo tante volte specializzati nell'evitare il male nel cercare di capire il male ma non siamo molto attenti a valorizzare il bene che già abbiamo come il figlio il prodigo d'altronde vi ricordate che alla fine capì con calma senza fretta poco a poco io devo farmi un elenco delle mie grazie che so che mi fanno bene ecco vi assicuro che anche in questo lockdown certo per una persona che ha la vocazione da consacrato che ha una base monastica il fatto di non fare apostolato ci ha fatto riscoprire per chi ha questa vocazione il tempo per approfondire l'incontro con Dio il tempo per poter fare tante cose che non c'è il tempo di fare perché il lavoro apostolico è molto 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 vasto è un oceano per cui per molti di noi che sono chiamati all'apostolato il fatto di avere una base monastica una base di consacrato di vita contemplativa il fatto che in questo lockdown per molti di noi è stata una vera e propria grazia perché è perché giustamente chi ha la vocazione monastica a un certo punto da consacrato l'intimità con Dio avere più tempo per fare adorazione leggere dei libri spirituali meditare lavorare stare in silenzio queste sono cose grazie certo se li vai a dire fuori magari non ti credono però di fatto ogni situazione di vita ha sempre qualche cosa che ci benedisce ripeto anche una persona che è morta sola in ospedale c'è il lato della grazia che ha operato in quella tragedia in quel chicco di crano che marcisce però devi guardare le cose con gli occhi di Dio perché gli occhi di Dio sono la verità il bene non nasce mai dai sensi di colpa per esempio se io agisco per i sensi di colpa che ho e allora sulla base dei sensi di colpa io non faccio cose buone perché dico mi sento in colpa e faccio questo allora se tu fai le cose non per amore ma per senso di colpa perché tante volte uno si sente in colpa quante volte per esempio i coniugi divisi si sentono in colpa perché sono divisi e a partire dal senso di colpa vogliono educare i figli ma non li possono educare a partire dal senso di colpa perché saranno troppo indulgenti perché già si sentono in colpa come i genitori perché si sono divisi i figli su sole e allora a partire dal senso di colpa una persona concede tutto perché dice mi schino mi figlio mi figlia e così e quindi partire dai sensi di colpa o dalla vanità o dal rifiuto della nostra povertà è un problema si deve partire dalle cose positive la vita ha una sua positività su questa base io imparo a fare il frate io imparo a educare perché per esempio Dio mi ha dato un figlio e voglio il bene per chi è sposato così quindi Dio non è tortuoso Dio non si contraddice è lineare è coerente ecco e per concludere occorre desiderare che veramente Dio ci faccia camminare sulla strada che Gesù definisce del giorno cioè alla luce di Dio allora Giovanni 11 9-10 Giovanni 11 versetto 9 Gesù rispose non sono forse 12 le ore del giorno se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui che cosa significa che è un linguaggio simbolico profetico perché il Signore dice se tu cammini alla luce di Dio come la luce del giorno cioè sotto gli occhi di Dio sulle cose che Dio ha già fatto che ha benedetto se tu cammini nella luce del Signore e dicevamo il Signore fin da quando siamo nati ci ha amati benedetti e voluti allora tu coltivi la luce quindi il giorno è la linea delle cose buone che sono come una luce sotto la luce di Dio ma se tu cammini di notte significa se tu non cammini alla luce di Dio e quindi senza la luce di Dio sarebbe simbolica la notte allora purtroppo rischi molto perché perché non cammini alla luce vi ricordate Gesù che cosa ha detto in Giovanni 8 io sono la luce del mondo chi cammina dietro di me non cammina nelle tenebre ma se tu cammini nelle tenebre cioè senza Dio e allora il problema è che tu vai a sbattere da qualche parte quindi occorre camminare sempre sotto l'opera di Dio riconoscendo quello che Dio da sempre ha fatto fin da quando siamo nati e il fatto credetemi il fatto di di dire dacci il nostro pane quotidiano non è lo stesso che dire dacci il pane quotidiano cioè dammi il pane necessario che mi serve ed è importante questo fatto signore dammi quello che mi serve oggi non mi dare cose in più o cose in meno perché perché possa io fare la tua volontà dacci il nostro pane qualche cosa di bene che già io ho verificato nella mia vita e già è una pista da percorrere se io vado fuori dal mio bene io rischio di perdermi ma se io rimango nel mio bene nelle cose che già mi hanno fatto bene e coltivo il bene che già il Signore mi ha dato le cose che già so che sono buone io crescerò nel bene salutato Gesù Cristo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti